buongiorno sabato mio figlio si è dimenticato di comprare le cozze e oggi non so è su 20 ha iniziato a piovere da ieri pioverà tutta la settimana sarà su 20 22 tutta la settimana 23 però è molto umido no però comunque la prossima settimana faranno buone offerte qui ho già fatto la mia lista che do a mio figlio perché la prossima settimana farò un video di venerdì perché venerdì prendo venerdì e lunedì farò lungo ponte perché il martedì il 4 luglio e festa nazionale quindi sono cinque giorni a casa quindi venerdì farò un video ora sto facendo video friboli ok perché ho sentito sul volantino che hanno i bonsai a 7 99 però la prossima settimana e volevo vederli comunque voglio le mie cozze e i miei due baguette cos'è questa è questa è questa settimana che dire questi sono con le noci i pecan e sciroppo d'acero ne ho presi due troppo buoni e avevano le baguette le rustiche costano sempre di più erano un 99 ho preso una di queste e ho preso le altre una dell'altra che dal momento che sto registrando questo voice over è già finito quindi mi viene rimasto uno poi avevano le albicocche ho preso il video qui vendono gli appetati spusi ho preso il angus il rospi per i pari panini il prezzo a decendere veramente ottimo ce n'è un bel po' si hanno cose cambiano dipende non avevano il prosciutto cotto che piace a me questi pomodorini li ho comprato il mio figlio una confezione mercoledì erano 2.49 per tutta la confezione finiti come frutta no? i pomodori sono frutta però me ne sono portati anche un po' in ufficio erano buoni ne ho comprato un'altra confezione cos'altro qui ovviamente avevano le Bartlett che è la mia pera preferita questi sono biologici 4.29 no non posso sono i Bartlett sono i miei preferiti avevano le Anjou pensarono 3.99 le Anjou però ho preso le mele ho preso le Golden Delicious che erano 3.99 che ho trovato un buon prezzo sì no no mi piacciono le Barlett anche le Anjou mi piacciono però le Barlett di più avevano sì le Golden Delicious queste erano 3.99 sì erano belle grandi ho preso quelle sì 3.99 ho preso quella poi sto vendendo la frutta quando ho visto che avevano dove siamo qui siamo da avevano le ciliegie Ranier mamma mia doppio il prezzo sono doppio il prezzo quelle sono 450 grammi 7.99 quando le altre normali queste sono fantastiche le Ranier non so come spiegare sono croccanti i dolci al punto giusto piccole a una breve stagione questi erano sono 3.99 per mezzo chilo quelli sono 7.99 e mezzo che sono doppio le avevano le fragole mi sono stufata le mirtilli buon prezzo per tutta quella 2.99 per tutta la confezione buon prezzo sono stanca di mirtilli e voglio io voglio del Ranier ciliegie Ranier ma cosa sono 7.99 e mezzo chilo ho preso il prezzemolo perché devo fare la mia pasta i pomodorini oh avevano la promozione sul salmone viene dal Cile Atlantico no? Atlantico viene questo viene dal Cile e questo era un ottimo prezzo ottimo ti danno anche il pezzo di cedro di legno no? quando la metti sulla barbecue si accende il cedro no? e profuma il salmone una cosa fantastica era come 10 dollari a mezzo chilo quindi diciamo 20 dollari al chilo e questo era come 9 spicci un bel pezzo ci mangiano 3 persone questo era come tutto il pezzo era come 22 dollari buon prezzo conviene, conviene tutto il pezzo intero però le persone non sanno che cosa farsene ecco mio figlio che mi porta due delle confezioni delle cozze mi piacciono troppo ne ho già mangiato uno a pranzo con una baguette come ho detto l'ho finita poi stavo guardando questi pesce sul gelato questo è far la pasta no? però guardando dovete leggere bene dove è la provenienza di questo pesce era tutt'uno, era Francia comunque c'era la Cina io non compro pesce sul gelato alla Cina c'era un miscuglio niente che non c'è solo una cosa mia non c'è niente che non va però questa qui di Next Way queste erano solo cozze bellissime, belle grosse queste venivano dal Cile e le ho prese questa farà voglio fare la mia pasta no? era 4,49 erano veramente belle e avevano questi sono la grana padano a pezzettini penso erano 6 dollari e spicci non volevo sfiorare il mio budget quindi non l'ho preso però avevano avevano il mascarpone dall'Italia era 2,99 era un buon prezzo non so com'è non l'ho preso però era 2,99 e c'era la grana padano questo era 6,49 un buon prezzo poi che stavo curiosando qui avevano molte cose di italiano però niente che che potremmo prendere io ho il mio budget è andata buona nel tonno non era sì a me piace molto l'albacore però non non mi attirava per niente avevano le acciughe che ci stavo facendo un pensierino però ho cambiato idea cos'altro poi stavo avevano varie cose che io ho il mio budget avevo già sfiorato il mio budget comprando tutte queste cozze cose del genere però avevano quei biscottini cos'è qua? non mi ricordo più ho queste confezioni di pomodori pomodorini ciliegini poi avevano questi biscotti che ero tentata a prenderli poi quando c'era scritto che erano avevano colori o sapore artificiali no thank you questi qui sì c'è scritto artificial flavor no non so l'hanno scritto ho preso le spogliatelle che a me piacciono ho preso queste pop pastry cookies questo ci piace gli altri non so c'era scritto artificial quindi ho detto no thank you ho preso la pasta ho preso i popcorn poi dei snack e stavo dal lido hanno candlelight un brand che io compro per la maggior parte lo compro online nel loro sito a volte si trova su cbs però avevano certe profumazioni stagionali 5,99 la prossima settimana avranno i bonsai 8,99 mi interessa questo poi avranno altre promozioni avranno le alette crude ovviamente poi le cuoci 1,99 avranno l'anguria wow hanno varie cose che mi interessano per la prossima settimana il guacamole 3 per 2 per 3 dollari questo è la prossima settimana questa spesa si risparmiava c'era 5 dollari di sconto su una spesa di 35 poi ve lo fa vedere che lido vendono le candele candlelight però ne hanno poca scelta io questa l'ho presa dal sito mi è appena arrivata a Bigali questo è puro autunno puro autunno mi piace troppo mi piace troppo questa era in promozione perché sono di vecchie collezioni da collezione natalizia pur autunno candlelight sapete esiste quasi cent'anni però lido si trova ora aspetto in autunno uscirà anche da lido qualche collezione la nuova di stagionale di autunno però questa Bigali Bigali autunno mi è appena arrivata a Candle la compito dal sito perché c'è tutta la scelta lì ok buon weekend a Candle Grazie.